Musica Psichiatra uccisa da un paziente a Pisa, il cordoglio e le proposte del Consiglio regionale. Graduatori e os, l'Aula impegna la Giunta a prorogare la scadenza. Tesi di laurea ha istituito il premio Sassoli, via libera agli aggiustamenti tecnici per otto norme regionali. Un minuto di silenzio per commemorare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa nei giorni scorsi. Si è aperta così la seduta del 3 maggio del Consiglio regionale, che ha voluto dedicare un momento di riflessione e cordoglio alla specialista, vittima di un suo ex paziente. Un minuto di silenzio per ricordare la psichiatra Barbara Capovani, la sua morte violenta, per mandare un messaggio di cordoglio, di vicinanza in tutta l'assemblea legislativa, al suo compagno, alla sua mamma, alle sue figlie, è difficile trovare le parole in questi casi. C'è tanta rabbia, tanto sgomento, ma l'impegno di portare avanti le battaglie la dottoressa Capovani su cui stava lavorando, di fare in modo che i suoi gesti di solidarietà, come l'ultimo di aver donato i suoi organi per salvare la vita di tante persone, possono avere ancora un seguito. Il nostro impegno è di non dimenticare e di fare in modo che l'assemblea legislativa porti avanti le battaglie che la dottoressa Capovani stava mettendo in campo, anche attraverso la giustizia. Una vicenda su cui il Consiglio non si è limitato al cordoglio, ma ha discusso atti e proposte concrete. Il dramma della dottoressa Barbara Capovani, di cui oggi abbiamo fatto memoria con un minuto di raccoglimento in aula, ci deve richiamare innanzitutto alla riflessione, ma all'azione immediata. Era questo l'intento dell'interrogazione che avevo presentato, ed è l'intento anche dell'emendamento che abbiamo presentato alla mozione del Partito Democratico, in cui viene richiamata la necessità appunto di una prevenzione e un maggiore intervento da questo punto di vista. C'è un dato nazionale che ci deve far riflettere, ed è quello dell'aumento esponenziale delle aggressioni ai sanitari negli ultimi anni. L'altro aspetto che ci deve far riflettere è quanto questa regione, con le REMS e con le cliniche di comunità, sia in grado di accogliere le persone con fragilità e soprattutto quanto sia stretto il rapporto tra magistrati e operatori sanitari, soprattutto nell'ambito della psichiatria, per individuare, distinguere soprattutto, quelli che sono i pazienti con delle fragilità che hanno bisogno di una separazione di un certo tipo dalla società, da quelli che sono comuni delinquenti. Il dibattito ha fatto emergere, ovviamente, oltre al cordoglio, per la vicenda della dottoressa Capovani, la necessità di approfondire il tema della sicurezza dei sanitari. Noi avevamo proposto una mozione, ma che voleva essere solo un inizio di una discussione, tant'è che è stata richiesta dall'opposizione il rinvio in commissione. Ebbene, abbiamo accettato il rinvio in commissione, dove faremo, insieme anche alle organizzazioni sindacali delle sedute su questo tema della sicurezza del lavoro, ben distinto però da quello dell'organizzazione della salute mentale. Sarebbe un errore, anche a valle di una vicenda tragica, come quella della dottoressa Capovani, confondere l'organizzazione della salute mentale con il tema della sicurezza. Non c'entra niente. Vorremmo affrontare anche il tema della salute mentale, dell'organizzazione delle REMS, ma sono temi che devono essere completamente disgiunti. E questo faremo nell'organizzazione dei lavori della commissione, che una volta reinsediata dopo la pausa della metà legislatura, vedrà appunto convocati distinte sedute su entrambi i temi. Nel corso della stessa seduta è stato ricordato anche Guido Sacconi, scomparso il 2 maggio, già consigliere regionale dal 1995 al 1999 e vicepresidente dell'Assemblea legislativa dal novembre 1998. Un impegno nero su bianco della giunta regionale affinché venga prorogata la scadenza dell'aprile 2024 per la graduatoria del concorso per operatori socio-sanitari. L'ho chiesto e ottenuto con l'approvazione all'unanimità di una mozione dedicata il Consiglio regionale, che è tornato così sul delicato tema delle assunzioni degli OS già inseriti nella graduatoria Estar. La soddisfazione della maggioranza. Ma è una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava, associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi. C'è un'attesa incredibile di OS e di assunzione. Quasi duemila persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria. Quindi io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consigliari. Questo è positivo quando si trovano appunto di convergenza su un testo così importante. Siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie che è stato ridotto a due anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno tre anni perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita e soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie appunto per le quali insomma vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Il secondo principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali quindi che siano a tempo determinato o indeterminato attingendo alla validità, a quella validamente in essere evitando il ricorso a forme di lavoro interinale cercando appunto di assumere più personale possibile. Un provvedimento votato anche dall'opposizione. Sì, alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentate tutte più o meno una stessa mozione è stato chiesto di fare un lavoro unico, un segnale di unità e infatti è stato votato all'unanimità. È stata una soluzione di buonsenso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della regione toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in gradutore. Quindi un ringraziamento a tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che oggi hanno dimostrato e ovviamente anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sottoscritto la mozione. Noi chiediamo e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente quindi siamo molto soddisfatti di questo che si attinga dalla graduatoria aperta della regione toscana che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale perlomeno soltanto nei limiti di legge quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che le 2000 e i 2000 OS in graduatoria vengano tutti assunti da parte della regione toscana perché il servizio sanitario regionale ha bisogno in questo momento di 2000 OS per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2000 OS entro aprile 2024 per metterli nei pronto soccorso, per metterli nei corsi degli ospedali per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate quindi la regione deve fare uno sforzo anziché continuare a sperperare milioni e decine e centinaia di milioni di euro come fa la sanità che costa 8 miliardi l'anno in Toscana si assuma gli OS presenti in graduatoria e si renda il nostro servizio sanitario più efficace e più efficiente. Diciamo che un po' tutti i gruppi hanno messo la loro attenzione su questa questione però poi abbiamo voluto fare una nostra mozione perché abbiamo individuato che non c'è soltanto gli OS che hanno in scadenza questa gradatoria ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante naturalmente non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe di lavoro interinale o di lavoro somministrato quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie perché noi potremmo prorogare la sine die ma se non si prende da queste graduatorie inevitabilmente rimane lettera morta quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste graduatorie. Il Consiglio regionale ha detto sì all'unanimità alla proposta di legge che istituisce il premio di laurea David Sassoli nell'ambito delle celebrazioni della Festa dell'Europa dal 2022 è stato istituito il premio miglior tesi di laurea David Sassoli da assegnare alle tesi discusse negli Atenei Toscani sul tema l'Europa, le regioni e i cittadini per le prossime edizioni i premi di laurea sono stati aumentati a 5 così come il loro importo. C'è orgoglio, felicità, anche emozione perché all'unanimità come era già accaduto in Commissione Europa come era già accaduto in prima commissione l'Aula ha deciso di approvare una proposta di legge che istituzionalizza il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli questo cosa significa? Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione dove c'eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale e che con un lavoro che è stato fatto tutti insieme in Commissione Europa perché è una proposta che porta la firma di tutti i commissari e anche se ha giunto il presidente del gruppo Italia Viva Stefano Scaramelli permette proprio di raggiungere questo obiettivo e dunque a giorni verrà presentato il bando della seconda edizione di questo premio di laurea Una proposta voluta e sostenuta anche dall'opposizione Una figura che ha rappresentato la nostra nazione la nostra Toscana soprattutto in Italia e in Europa è stata una figura istituzionale grandissimo giornalista ma anche una figura istituzionale e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi di un esempio, di una persona equilibrata anche se politicamente eravamo e siamo su delle sponde diverse ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione toscana E' stata approvata con 22 voti favorevoli nessun contrario e 6 astenuti la prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023 Nell'ambito della consueta interlocuzione tra governo centrale e regione questa norma recepisce gli aggiustamenti tecnici richiesti da Roma su 8 leggi regionali tra cui il testo unico sul personale e la legge delle norme sul territorio Come ogni anno il Consiglio regionale ha approvato la legge di manutenzione dell'ordinamento giuridico regionale la legge con la quale vengono sistemate tutte le norme presenti nell'ordinamento regionale e cogliendo l'occasione per fare le interpretazioni autentiche delle leggi regionali laddove necessarie o per arrivare agli adeguamenti delle disposizioni nazionali, comunitarie o regionali Una legge che tocca vari aspetti dalla disciplina del personale alla legge di stabilità del 2022 collegato alla legge di stabilità del 2018 fino ad arrivare anche alla legge urbanistica la 65 del 2014 Mi piace evidenziare come il testo di questa legge di manutenzione sia estremamente semplice e snello e sia caratterizzato da norme che sono realmente di manutenzione dell'ordinamento senza reale carattere innovativo nello spirito di una legge di manutenzione Questo perché da tempo è invalsi una buona prassi tra il Governo e la Giunta regionale con la quale a fronte di potenziali impugnative di fronte alla Corte Costituzionale e di leggi regionali il Governo muove tutta una serie di osservazioni preliminari alla Giunta regionale e la Giunta regionale può impegnarsi ad andare a modificare queste disposizioni con ciò evitando l'impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale questo ha consentito di sgravare notevolmente le ipotesi nelle quali le leggi regionali vengono portate dinnanzi alla Corte e questo ha consentito anche oggi di arrivare ad una legge di manutenzione che è effettivamente piuttosto sintetica e ha un carattere esclusivamente di manutenzione senza alcun intervento forzato nel senso della innovazione dell'ordinamento esistente Un atto tecnico su cui però l'opposizione non ha mancato di pungolare la maggioranza Si tratta di un atto meramente tecnico sul quale naturalmente spunti politici ce ne sono pochi È chiaro che però la caratteristica di questa PDL è stata sostanzialmente di andare a correggere alcune storture, alcune disattenzioni che con forse una maggiore attenzione al momento della redazione del testo normativo avrebbero potuto essere evitate quindi sono diciamo però dei piccoli campanelli di allarme che naturalmente chiamano un po' in causa un approccio di maggiore qualità ed attenzione rispetto proprio alla tecnica della redazione dell'atto normativo che nulla spostano da un punto di vista sostanziale ma che naturalmente ecco di fronte a una legislazione regionale che comunque ha un valore importante anche da un punto di vista formale richiederebbe sicuramente un approccio diciamo meno disattento Per questa edizione è tutto potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina Grazie a tutti Grazie a tutti